Uniti in Italia, divisi in Europa, potrebbe un po' essere questo il tema da proporre a tutti i politici che stiamo incontrando oggi qui fuori dai palazzi. In realtà questo è il tema che abbiamo anche proposto a chi siamo riusciti ad intercettare. Perché? Perché hanno fatto discutere, tengono ancora a banco, le dichiarazioni a distanza, il botte risposta a distanza che si è consumato tra i due vice premier della maggioranza di governo. Da una parte Tagliani e dall'altra Matteo Salvini. Anche perché hanno delle posizioni completamente divergenti proprio per quanto riguarda le alleanze europee, tra meno di un anno si vota in Europa. Abbiamo trovato un affronte compatto, ma era inevitabile che fosse così all'interno di Forza Italia. Allora ai nostri microfoni abbiamo registrato le dichiarazioni del capogruppo alla Camera Paolo Barelli. Abbiamo anche intercettato il ministro della pubblica amministrazione, Zangrillo, e chiuso con un poco polemico, stranamente, ma sicuramente efficace, senatore Gasparre. C'è una cosa che mi fa sorridere, perché prima si è provato a raccontare un governo nazionale diviso. Siccome poi i fatti hanno smentito questa narrazione, adesso si racconta di un Europa, un centrodestra diviso. Sono narrazioni. Ma siamo a racconto, in realtà ci sono state un po' risposta a distanza tra Tajani e il ministro Salvini. In realtà Salvini si riferiva direttamente alle penne, però l'ha detto, non voglio veti. Il ministro Tajani si è limitato a chiarire che noi come Forza Italia facciamo parte del Partito Popolare Europeo, quindi abbiamo un'area valoriale di riferimento, per cui effettivamente le coalizioni si costruiscono sui valori. Per cui è chiaro che Tajani ha espresso la posizione del nostro partito, ma questo non significa che siamo spaccati. Lo ripeto, abbiamo un anno di tempo e in un anno di tempo vedremo di costruire una coalizione. Io penso che in questo momento l'area che possiamo intuire è quella di una coalizione tra conservatori e Partito Popolare Europeo. Mi sembra l'ipotesi più credibile. Per che capoto la Le Pen, diciamo che noi siamo una coalizione di centrodestra che è fatta di partiti che sono stati capaci in tanti anni di stare insieme, ma naturalmente ciascuno ha le sue caratteristiche, i suoi valori di riferimento, quindi fa bene Salvini a ribadire i suoi come noi i nostri. La missione di Salvini di fare diventare la Le Pen europeista convinta è una missione che io non credo sia impossibile, poi vediamo se ci riesce, se ci riesce siamo tutti felici. Sono anche i tedeschi? Eh i tedeschi, ha le penne, tutte queste cose, però speriamo che se li mette tutti quanti a Piazza del Parlamento o a Bruxelles a cantare viva l'Europa, viva l'Europa, viva l'Europa, esorta il problema. Salvini commette un cruis? Non lo so, però fondamentalmente il tema è quello, quindi l'operazione che sta tentando se va in porta è ottima. Però mi pare che i toni, almeno a distanza, ieri non fossero poi così distesi, una parte appunto Tagliani e dall'altra Salvini. Ma i toni sono distesissimi, c'è una realtà, a parte che Tagliani non è il capo del Partito Popolare Europeo. No, però è la persona che in questo momento rappresenta di più il Partito Popolare Europeo in Italia. Ha sottolineato che ci sono dei problemi in Europa da parte del Partito Popolare Europeo, da parte di Weber che l'ha sottolineato spesso e volentieri, di accettare all'interno di una coalizione chi l'Europa Unita non lo vuole, ma è un fatto matematico. Ma scusate, oggi in Europa Forza Italia che fa parte del Partito Popolare Europeo sta al governo, mentre non ci sta al governo né i conservatori della Meloni né il partito a cui fa riferimento a livello internazionale Salvini. Quindi qual è il problema? Quindi nessuna dialettica che poi rischia di compromettere anche l'armonia che c'è invece in Italia, nel centro-destra? Io credo che è iniziata la campagna elettorale e siccome la campagna elettorale va sul proporzionale e sul simbolo, adesso ognuno cerca di trovare il posizionamento che sia più simpatico ai voleri italiani. Però il tema è che non è che l'Italia, Salvini e Tagliani possono da soli mettersi d'accordo e stabilire quello che fa a Norvegia, a Svetlia, No, giusto, quindi voglio dire, insomma, mi sembra che il problema non sia nuovo, il problema c'è. Poi se Salvini riesce a far diventare la Le Pen convinta europeista, il miracolo è fatto e siamo contenti. Ma domani c'è un centro-destra invece compatto sulla Ministra Santa anche al Senato? Ma sì, ma per quanto riguarda Forza Italia, Forza Italia è garantista, ritiene che i processi si fanno in tribunale, non si fanno sui giornali, non si fa a report, non si fa da altre parti. La Santa anche ha deciso di conferire la sua posizione al Senato, l'ha scelto lei, ascolteremo, ma noi non avevamo nessuna esigenza di sentirla. Il MES sta a scricchiolare le posizioni di questa pseudo-opposizione divisa sul MES. Anche voi siete unitissimi però sul tempo. No, il MES diciamo in questo momento non è un'emergenza, non è un'esigenza, deve essere dibattuta sul tavolo con altri problemi importanti che sono il patto di stabilità, se inserire o meno il patto di stabilità del prossimo anno, i costi del PNR, la guerra in Ucraina, la transizione energetica, insomma ci sono sul tavolo una serie di cose, per cui fa bene il governo, fa bene la Meloni, fa bene Tagliani, è fitto ad aprire un tavolo per trovare quelle soluzioni che siano anche di interesse non soltanto di Germania o di altri paesi, ma che siano di interesse anche dell'Italia. Già ci sono le europee divisi, come diceva il collega, in Europa, uniti in Italia. Ma noi siamo per il centro-destra, notoriamente, in Italia e in Europa. Antonio Tagliani anni fa fu eletto presidente del Parlamento europeo da una maggioranza di centro-destra, dopodiché è chiaro che ci sono delle compatibilità, ci sono gruppi estremisti in Germania e altrove che sono fuori da una compatibilità generale, a maggior ragione a livello europeo. Mentre invece Forza Italia, La Lega di Salvini, Fratelli d'Italia, sono alleati in Italia, lo devono essere anche in Europa e già nei fatti lo stiamo dimostrando, cercando di correggere alcune direttive sulla transizione ecologica, sull'automobile, sulle case, per renderle più ragionevoli e quindi correggendo alcune esagerazioni degli iperambientalisti e dei socialisti. Sono le scelte concrete le cose che contano e noi riteniamo che Forza Italia sia in Europa un pilastro all'interno del PPE, ancorata a una cultura e valori del centro-destra, che cerchiamo di affermare. Poi tutto quello che succede nell'Europa mica dipende tutto da noi, non è che uno prende un foglio e scrive quello che desidera. Però lei dice Forza Italia ritiene la Lega compatibile, ma la Lega ritiene compatibile anche Le Pen, ma Forza Italia non ritiene compatibile Le Pen. Un problema noto che è anche a livello europeo, poi più che la Le Pen, che pure presenta delle problematicità, la Le Pen è contro l'Unione Europea e contro l'Euro, quindi è un problema che nasce anche da lei. Poi in Germania il gruppo Alternative for Deutschland oggettivamente è in contrasto con canoni basilari, che anche Salvini invece rappresenta e difende in Italia e in Europa. Non è la stessa cosa, la Lega è un grande partito democratico e popolare e quei gruppi. Però l'Europa è una cosa complessa e articolata, 27 nazioni, centinaia di movimenti politici. Noi abbiamo un riferimento chiaro, Forza Italia è nel PPE, è alternativa alla sinistra e Contagliani dimostrò, come si poteva eleggere, un Presidente del Parlamento europeo in contrapposizione a un socialista italiano che perse. Quindi poi alla fine sono i fatti che determineranno scelte politiche alternative alla sinistra compatibili con l'europeismo, un europeismo però non retorico come quello dei socialisti europei che di fatti stiamo contrastando e correggendo anche nei vari organismi europei e anche nel Parlamento europeo, come dimostrano i fatti. E domani sarete compatti sulla Santa Anca in Senato? Ma domani non ci sono neanche votazioni, quindi ci saranno delle comunicazioni e mi pare che finora non ci siano atti giudiziari, non ci sono inchieste chiuse, non ci sono avvisi di garanzia e stiamo discutendo del commento a delle polemiche giornalistiche. Di fatti c'è un'informativa e nemmeno le sinistre hanno avanzato mozioni di sfiducia. Evidentemente tutti vogliono ascoltare e noi riteniamo che non si possa fare un abbattimento di persone sulla base di una trasmissione o di un'opinione giornalistica. Questo è lo stato dei fatti che domani vedrà di fatti una seduta per informativa e un intervento di 5 minuti per gruppo, poi ognuno dirà quello che pensa e non ci sono atti giudiziari.